7 su 8 tra i residenti nello stesso stabile della casa di riposo La Primula, presenti in casa durante il picco dell'emergenza Covid-19, hanno contratto il coronavirus. Non solo Ruggero Graniero, l'anziano paziente oncologico deceduto dopo il contagio. L'unica persona negativa al virus è quella che vive al pian terreno, assieme alla moglie che però era in trasferta per lavoro, ovvero l'unica che non utilizza l'ascensore promiscuo che serve sia i condomini che gli ospiti dell'ospizio. Sì, proprio quell'ascensore in cui i anziani, come quelli ritratti nelle foto scattate dai condomini, entravano e uscivano in piena emergenza, senza mascherine né guanti. Ma almeno uno se va in cantina, forse l'era devi andare all'uno. Non devo andare giù, piano terra. In piano terra all'ora del zero. Paradossalmente proprio quell'ascensore che rappresentava il principale motivo per cui il signor Graniero si era trasferito in quell'abitazione, lasciando un appartamento in cui era costretto a diverse rampe di scale che lo affaticavano. Se l'è cavata invece, evitando il contagio, un'altra coppia di condomini che si trovava in viaggio in Thailandia durante il picco dell'emergenza ed è rientrata ad aprile, quando parò la casa di riposo aveva già avviato, dopo il fascicolo aperto dalla magistratura, procedure diverse per contenere l'emergenza in vista del trasferimento degli anziani. Quello stilicidio di ambulanze e squadre usche che accompagnavano altrove gli ospiti, documentato in diretta da Telequattro. Ora è la magistratura dove racclarare le responsabilità dei titolari dell'ospizio, il capo di imputazione e ipotesi di omicidio colposo. La procura fiderà a breve l'incarico per le autopsie sulle salme di sei deceduti, tra cui il Graniero, difeso dall'avvocato Antonio Santoro, a un pool di anatomopatologi di Trieste e Udine, coordinato dal dottor Fulvio Costantinides. L'obiettivo è quello di accertare le cause dei decessi e verificare la situazione polmonare dei cadaveri per chiarire se rispecchiassero le condizioni provocate dal Covid. I video e le foto realizzate evidenziano peraltro una serie di situazioni fuori controllo, come quella di un anziano ospite persosi lungo le scale e finito nella cantina del palazzo senza saper più rientrare negli spazi della casa di riposo.